salve a tutti, ah ma che accoglienza, no non mi serve, salve a tutti, grazie io credo, io credo che insomma questo glielo devo proprio come non soltanto amico ma fratello salvo sono anni che insiste affinché io conoscessi Giuliano, Giuliano e volevo dirvi che dovete andare fieri di un cittadino, di un vostro compaisano come Salvatore Micillo, ha combattuto come un leone, come un leone, l'ha fatto in maniera straordinaria esclusivamente per gli interessi del popolo campano, l'ha fatto, io sono fiero di poter lavorare insieme a uno come salvo, andatene fieri, andatene fieri di un cittadino come Salvatore Micillo, davvero complimenti per il lavoro che hai fatto, mi dicono che devo per vedere Valeria e Rall and Falsch il movimento è una famiglia, credetemi, è una comunità, a me sono venuti a prendere non so neanche chi a Caserta, mi hanno portato a casa qui a Giuliano, la signora appena sono entrato ha iniziato a friggere le melazzane, il caffè può qualcosa, stavo in bagno ad asciugarmi un attimino, è venuto con i calzini il padre, metti dei calzini che piove, è incredibile ecco questa meravigliosa accoglienza che avete voi campani è una delle qualità più belle che voi avete, dimostra quanto voi sentiate una comunità, anche il Movimento 5 Stelle lo è. Io vi invito a riflettere su una cosa, che al di là delle parole che diciamo tutti quanti, perché oggi i politici, ascolti Salvini in televisione, ascolti Renzi, sono bravi a parlare, sono bravi con i loro discorsi, sappiate che i loro discorsi glieli scrivono degli staff di comunicazione pagati i fior di milioni di euro grazie ai soldi delle tasse di cittadini che si sono fottuti con i rimborsi elettorali. Non sono in grado di improvvisare nulla, sono si bravi con le parole perché qualcuno gli scrive e gli scrive le parole migliori, quelle parole che vengono maggiormente gradite dal popoluccio, quel popoluccio utile soltanto quando bisogna chiedergli i voti. Noi non vi chiediamo i voti, vi chiediamo di darci una mano. L'avete visto i cittadini che facciamo entrare nell'istituzione? Abbiamo fatto entrare Salvatore Micillo, entrerà Valeria, se andrà bene, dipende dagli ultimi giorni, da quanto questi pseudo delinquenti o persone davvero indecorose che stanno a destra o a sinistra riusciranno anche a distruggersi con le loro mani. Se qua dovesse succedere un miracolo noi andiamo al governo di questa regione e questa regione la rovesciamo totalmente, i ladri andranno tutti in galera. Ci sarà lavoro grazie alla mondessa, sembra una cosa incredibile, la mondezza qui per colpa dei casalesi e di uno stato ancora più corrotto della camorra ha portato esclusivamente morte. Tu mori anche ai camorristi stessi, si ammalano pure i camorristi, io lo dico se c'è qualche infiltrato qua, vi ammalate pure voi di cancro. Avete distrutto una regione. Quando con la mondezza si possono portare avanti progetti seri e creare posti di lavoro, lo spiegava benissimo Valeria, è incredibile. La mondezza può essere una risorsa, da gestire in modo alternativo per creare posti di lavoro. In una terra martoriata qui dal malaffare, in primis dal malaffare della politica, perché guardate che l'ipocrisia che c'è nei palazzi in Parlamento, il malaffare che c'è lì, i delinquenti che stanno lì dentro, i disonesti intellettuali, io non li ho visti da nessun'altra parte, c'è da aver paura alle volte a lavorare nel Parlamento della Repubblica. Eppure gente come Salvo porta avanti davvero gli interessi della collettività. Io una cosa voglio dire, anzi varie, la prima, ma credetemi, vi sembrerà strano, ma oggi qualcuno di voi, come è successo a Salvatore Micillo, qualcuno di voi che sta stasera in questa piazza finirà in Parlamento fino a Regione nei prossimi anni. Abituatevi all'idea che candidarsi non è soltanto un diritto, ma è un dovere per i cittadini, per bene e onesti, perché o ci candidiamo noi o si candidano loro e loro i voti purtroppo in qualche modo qualcuno lo prende sempre. L'avete visto come? candidano qualsiasi feccia, qualsiasi impresentabile. È normale, è normale, il sistema si difende, il sistema ci attacca, i mezzi di comunicazione ci attaccano ed è un bene. Finché ci attaccheranno significa che stiamo compiendo il nostro dovere. Andiamo nei fieri dei loro attacchi, sono medaglie al valore, sono medaglie al valore. Qualcuno di voi entrerà in Parlamento, qualcuno, ma io sì, te, perché non ci vuole nulla, ci vuole onestà, ci vuole voglia di studiare, voglia di applicazione, ci vuole la voglia di combattere per il bene collettivo, per l'interesse generale, ma tutti possono diventare parlamentari della Repubblica. Il Movimento 5 Stelle è questo, non siamo una sostituzione di un potere con un altro, siamo dei cittadini che entrano ed usciranno e ne entreranno degli altri. Oggi c'è Salvatore Micillo, entrerà qualcun altro e porterà avanti le stesse battaglie che sta portando avanti Salvo e quando Salvo si fermerà arriverà qualcun altro che prenderà il suo posto. E questa è la logica incredibile ed è per quello che siamo incorruttibili, non perché veniamo da Marte, perché veniamo dalla stessa Italia fatta di mazzetti, di tangenti e di crimini organizzati. Anzi, secondo me, e di cooperative rosse in mano al Partito Democratico, anzi, secondo me se noi iniziamo a prendere coscienza che siamo tutti in un certo senso corruttibili, le possibilità di contaminazione e corruzione paradossalmente diminuiscono. Se noi sappiamo che veniamo da questa Italia, purtroppo, dove ci hanno insegnato da ragazzini che essere furbi è meglio che essere bravi. Giorgio Gaber diceva, non temo Berlusconi in sé, temo il Berlusconi in me, diceva. Giorgio Gaber. Come a dire, certi virus ci sono all'interno degli italiani, ma in che cose è differente il Movimento 5 Stelle? Perché arrestano sempre gli altri e non arrestano noi? Perché non governiamo? Non è vero. In tante realtà... me lo portate, per favore lo portate io, sto scherzando. Perché in tante realtà noi governiamo già, a Pomezia, vicino Roma, governiamo e abbiamo concluso in un anno il bilancio in attivo di 2 milioni di euro e quando gli abbiamo chiesto al sindaco come hai fatto, lui ha risposto semplice, non abbiamo rubato, semplice, non ho rubato. Non ci vuole Einstein a capire che prima di comprare degli F-35 dobbiamo bonificare questa terra perché le persone smuoiono di cancro. La guerra non sta in Afghanistan, la guerra ce l'abbiamo in casa, ce l'abbiamo qui a Giuliano. Non ci vuole Einstein per capirlo, lo capite che è soltanto una questione di interesse. In che siamo diversi noi? Siamo migliori degli altri? No. Abbiamo due regole semplici, candidiamo solo in censurati, riducendo drasticamente la possibilità di contaminazione. Uno, la seconda è la più grande rivoluzione, cerchiamo di capirlo insieme. Noi sappiamo che non possiamo stare tutta la vita in quei palazzi, sappiamo perfettamente che il mondo reale è Giuliano, è Afragola, è Casoria, sono queste realtà martoriate appunto dalla politica e dal malaffare. Quindi sappiamo perfettamente che sarà nostro interesse migliorare il mondo reale che non è Montecitorio ma è questa realtà. Nostro interesse perché saremo costretti al massimo dopo due legislature a rifare i conti con la realtà, cioè a ritornare nel mondo reale che non è la Camera Deputata. È questo il concetto rivoluzionario. Salvatore sa perfettamente che tornerà qua e dovrà riscontrarsi con i problemi occupazionali, con i problemi ambientali. Lui la sua legge l'ha portata avanti, la legge che ha firmato per primo appunto sui reati ambientali, perché sapeva che quella legge sarebbe stata utile a lui anche, non a lui inteso come lobbista, ma a lui come parte di una comunità di cittadini. E' questa l'enorme differenza. Per questo si riduce la possibilità di contaminazione. Perché se tu sai che tutta la vita puoi stare in quei palazzi, alla De Luca, alla Caldora, alla Napolitano che è entrato in Parlamento, che Stalin era ancora vivo, Napolitano è entrato in Parlamento, che Stalin era ancora vivo, se tu sai che puoi restare tutta la tua vita lì dentro, che cosa farai? Scenderai a compromessi, a compromessi a ribasso. La smetterai di pensare al bene collettivo, ma inizierai a pensare esclusivamente a come posso fare, cosa posso fare, pur di tenere il mio deretano flaccido per tutta la mia vita su questi scranni a 14.000 euro al mese. Oltretutto noi del 5 Stelle vi costiamo molto, molto di meno perché ci tagliamo gli stipendi, oggi è partito il fondo di microcredito e oggi con i soldi che restituiamo noi vengono creati posti di lavoro. E' questo il concetto del credito. E' chiaro. E' chiaro. Noi ci dobbiamo fare, io vedo dei carabinieri e delle forze dell'ordine, grazie per essere presenti, però questa è una piazza normale, non c'è l'esercito come quando si muove Salvini, ci stanno due macchine della polizia, grazie, vi ringrazio. Le forze dell'ordine sanno che qui oggi ci sono persone per bene e i ladri sono altrove, lo sanno perfettamente le forze di polizia. Io non ho tante cose da dire, pensiamo alla credibilità. Due anni fa siamo entrati e qualcuno ci ha detto dovete accordarvi con un sistema, scendere a patte a compromessi, se l'avessimo fatti saremo morti, finiti. Oggi non c'era tutta questa gente qui. Oggi non avevamo la possibilità di prendersi una regione come la Campania, oggi non avevamo la possibilità di portare avanti il reddito di cittadinanza, saremmo diventati parte del sistema in un mese. Guardate che non è facile fare il deputato del Movimento 5 Stelle, molto più facile andare al gruppo misto, ti tieni 14 mila euro al mese, non stai sotto la pioggia a Giuliano, io non sono di questo territorio, non vengo a chiedere i voti, io già sono stato eletto, potrei starmene a Roma tranquillo con i miei familiari, mi tengo i soldi, passo al gruppo misto, ricevo meno minacce, ho il fegato meno ingrossato, perché mi viene il fegato grande lì dentro. Quando feci l'intervento, questa cosa non l'ho mai raccontata, quando feci uno degli ultimi interventi mi sono arrabbiato in maniera incredibile, quando vedo che la Camera dei Deputati spende 240 mila euro all'ora per discutere una legge, quattro ore di discussione, quindi quasi un milione di euro dei soldi nostri buttato per approvare una legge sugli ecoreati, no, sul re di cittadinanza, no, una legge vera anticorruzione, no, per dare lavoro o una pensione più alta ai pensionati minimi, no, per istituire la giornata della memoria delle vittime dell'immigrazione. Un milione di euro quattro ore ci è costata questa legge del PD avallata dall'ipocrisia tipicamente boldriniana, io feci un intervento, ci ho messo il cuore, mi sono sentito male, mi hanno portato dietro in infermeria, mi hanno fatto l'elettrocardiogramma, io pensavo ma si è mai visto che noi dobbiamo farci venire l'elettrocardiogramma per stare in mezzo a quella feccia, a quei delinquenti, a quei disonesti intellettuali che sono i peggiori. Questo significa essere nel Movimento 5 Stelle, non è facile, non sarà facile per te Valeria, dove Valeria? E ricordati che tu sarai sempre una dipendente del popolo campano, Valeria entra, opposizione, governo non lo so, ma entra e entreranno tanti altri, ricordati che tu hai promesso di non tradire di fronte a una piazza di Giuliano sotto la pioggia, tu sei una dipendente di questi cittadini che ti pagano lo stipendio, non tradire mai quei valori perché quei palazzi sono pericolosi, ci sono degli squali lì dentro, in Regione, a Bruxelles, in Parlamento. Però Valeria sa che tutto l'oro del mondo, i quattrini del mondo non valgono questo affetto, questa considerazione, uno non se ne può portare i quattrini all'altro mondo. E tanto prima o poi toccherà pure a noi morire e andare all'altro mondo, è meglio andarci come uomini veri, come donne vere, senza essersi traditi veramente per i soldi, chissà che sono questi soldi, chissà che sono questi soldi, ma perché gli piacciono così tanto? Ce ne hanno tanti, perché ne vogliono ancora? Incredibile, ma se li possono portare all'altro mondo? Dicevo un poeta uruguayano che c'è gente che è così povera che ha soltanto i soldi, questo io ho visto nel Parlamento della Repubblica, gente che è così povera che l'unica cosa che ha sono i soldi, non una comunità, non l'affetto, non persone che ci danno delle pacche sulle spalle a salvo micillo, lo ringraziano e gli dicono grazie perché stai facendo il tuo dovere. Queste cose non valgono tutto l'oro del mondo. E allora sosteneteci in quest'ultimo periodo, lo dico soprattutto ai ragazzi, convincete i vostri amici che dicono che non voglio neanche andare a votare, alcuni non sanno che si va a votare, perché lo fanno volutamente andare a votare il 31 maggio, è scelta scientifica, perché loro sanno che l'astenzionismo è un loro alleato, il PD Forza Italia, non si preoccupa che la gente non vada a votare, anzi, favorisce l'astenzionismo, perché? Perché i collusi a votare ci vanno sempre, loro possono sempre contare su un bacino elettorale purtroppo di gente che si vende, alcuni si vendono per disperazione, oggi le intercettazioni in Sicilia dimostrano che alcune persone si sono nel 2012 vendute il proprio voto per 5 euro, i 5 euro un proprio voto. C'è gente che è morta per permettere alle donne di votare, per permettere il suffragio universale e c'è gente che per disperazione non li vogliamo colpevolizzare, anzi il sistema vuole poveri e vuole ignoranti. Per questo vogliono portare avanti la riforma della scuola, per dare soldi pubblici alle scuole private perché ci vogliono ignoranti, perché gli ignoranti si può comandare e ci vogliono poveri perché il povero si può comprare, perché il povero ha fame e si vende il proprio voto anche per 5 euro o per un buono di benzina. È drammatico come è così o per la promessa di un posto eletto o per una suocera in ospedale. Funziona così, il sistema è questo, è ben collaudato, però non lo possiamo sconfiggere mettendo delle persone oneste. Vedo Sergio Buglia, vedo la Bulgarelli, sono fratelli per noi. Abbiamo formato un gruppo solido dopo tanti problemi ma siamo davvero compatti. Dovevamo distruggerci noi, si stanno distruggendo gli altri. Qui avete uno che può essere eletto come De Lu che il giorno dopo potrebbe decadere e oggi dice ma Renzi mi ha garantito. Ma che cosa sono? Che significa Renzi mi ha garantito? Ma che messaggi sono? Lui dice come testimonianza, io ti dico sempre che se ci sono reati vai sempre in procura e fai la denuncia, dice come testimonianza e ti fa onore che lui ha rifiutato i 50 euro da parte del Partito Democratico, no? Ah l'hai preso, come l'hai preso? Ah l'ha preso e ve l'ho fatto l'infiltrato, però in voi campani eh, straordinario. Come? Ah sì, ragazzi servono, finisco un attimino. Voi, dei giovani lì, convincete i vostri amici ad andare a votare, è pieno di un mucchio di persone che sono del Movimento 5 Stelle ma ancora non lo sanno. Gente, i nemici nostri non sono i camorristi, i delinquenti, anche loro, ma sono tre. L'astensionismo, la rassegnazione e il fatalismo. Chi si astiene in realtà pensa di fare un torto al sistema ma fa un favore al sistema, purtroppo. Uno, due, chi si rassegna deve guardare l'esempio di Salvo, un ragazzo normale di questo comune finito nel Parlamento della Repubblica che da solo in due anni riesce ad approvare, a far approvare una legge che non era mai stata approvata in vent'anni. Non ci si può rassegnare guardando gente come il miscillo. E il fatalista è colui che dice che non c'è giustizia, che la giustizia per carità, di fronte alla ingiustizia dice è così dappertutto. Non è così dappertutto. Qua c'è una forza di politica come il Movimento che combatte. Veniamo espulsi dalla Camera, ci danno migliaia e migliaia di euro di multa, ci cacciano perché non vogliono un'opposizione all'interno. Guardate come ci trattano nelle televisioni, basta capire come ci trattano questi presentatori per capire quanto vogliamo cambiare il sistema. Noi siamo il nemico anche per loro. Ci va Renzi, ci va Salvini, mi danno il microfono e mi fanno la domanda a piacere, come all'università. Fammi la domanda a piacere. Ci va Di Maio, l'altro giorno gli hanno chiesto qualsiasi cifra, poi lui le sa, noi le sappiamo, ma lo tratta in un modo incredibile con domande come se fosse un terzo grado. Ma quando Berlusconi andava da Vespa e diceva un milione di posti di lavoro, un milione di dentiere per tutti, qualcuno gli ha mai chiesto le coperture finanziarie? È una cosa vergognosa, vergognosa. Ma noi le sappiamo perché studiamo, perché quelle coperture le abbiamo scritte noi, perché sappiamo che il reddito di cittadinanza si può approvare domani, che soldi ci sono. Soltanto che se li rubano, se li sono sempre rubati con le grandi opere, con le tangenti, con i vitalizi per i condannati, ormai noi le cose le sappiamo. Allora andiamole e raccontiamole. È pieno di gente a dire il Movimento 5 Stelle a sua insaputa. Se la maggioranza, questa, la maggioranza di persone per bene, vi assicuro che l'Italia è composta dalla maggioranza di persone per bene, va a votare, questi spariscono in un giorno. Teluca, Caldoro, saranno passato, non sapremo neanche il loro nome, ce lo dimenticheremo. Dovranno soltanto occuparsi loro qua con la giustizia e basta. Gli daremo il reddito di cittadinanza, Teluca, glielo daremo. Anche a lui 780 euro camperà così Teluca nei prossimi vent'anni. Gli diamo il reddito di cittadinanza, stia tranquillo. Con il reddito di cittadinanza poi degli avvocati, se li può prendere, gli diamo di ufficio e si difenderà di fronte ai tribunali con gli avvocati di ufficio. E lui camperà con 780 euro come camperanno le persone in Italia e gli offriremo pure tre posti di lavoro. Se Teluca dovesse rifiutare tre posti di lavoro, gli togliamo il reddito. Così si fa. Giusto? Giusto, salto. Lavorassero un giorno. Non vi fate inchinocchiare da Renzi, da Salvini, questi mettono facce nuove per farci credere che il sistema è cambiato. Ma di che? Salvini sta in politica dal 1993, lo paghiamo da quando io stavo a liceo, la prima volta ben eletto al Consiglio Comunale di Milano. Ha lavorato un anno in vita sua, dove alla Padania, lo stesso giornale si è rubato ai soldi nostri lecitamente con il finanziamento pubblico e l'editoria e nonostante 9800 euro al giorno negli ultimi 17 anni è fallita. Così come l'unità. Qual è la differenza dalla destra e alla sinistra? Quando c'è di fronte il quattrino pubblico loro se li fottono i soldi e sono identici, speculari, però si differenziano solo di fronte al tema dell'immigrazione. Perché proprio sull'immigrazione uno dice una cosa o un'altra? Perché? Perché la Lega con la storia dell'immigrazione, per carità, noi abbiamo proposto proposte serie per contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, per l'amor di Dio. La Lega ci prende i voti dicendo radiamo al suolo i campi Rom quando sono stati istituiti dalla Lega stessa e da Maroni che ci ha messo i soldi nostri per istituirli. Mentre la sinistra li vuole i clandestini e perché? Perché li fa comoda le loro cooperative averci clandestini, perché ci mangiano dei criminali veri. L'ha detto Buzzi e Carminati, io sono di Roma e mi è toccato diventare un esperto di mafia. Sugli immigrati si campa più, che si fanno più quattrini che sulla droga, che sulla prostituzione. Gli immigrati e rifugiati, il nuovo business, i poveri, hanno bisogno dei poveri per arricchirsi, come le slot machine, che sono le tasse per i disperati, persone che alle 7 del mattino si vanno a giocare con parte di stipendi micragnosi per poter pagare delle bollette. Il nostro nemico è la paura, è questo, il fatto che la nostra idea folle è che soltanto un'elite possa entrare in Parlamento o in Regione, ma di che? Inesperti, loro sono inesperti. Guardate lui Cilimaia a 28 anni come presiede l'Aula dei Deputati e ancora che parliamo di inesperienza. Gli chiedo un ultimo sforzo, è rimontata un'onda come nel 2013, non sappiamo quanti voti prenderemo, ma entreremo dovunque, dovunque io vengo dalla Sardegna, piazze strapiene, giovani, persone anziane, gente che ha capito che viene a dirmi non voterò più il PD, avete ragione, gente che ha capito che ha aperto gli occhi, basta aprire gli occhi per non vedere più questa gente, non ci vuole niente, apriamo gli occhi e spariscono, se apriamo gli occhi spariscono, se apriamo gli occhi spariscono, è così, è ripartito un'onda, lo sentiamo, Valeria va in giro, lo sente, si sente a Giuliano, si sente dovunque, c'è di nuovo un entusiasmo, perché le persone hanno capito che dai e dai e la coerenza paga, in Italia ci vuole più tempo, in Italia la coerenza e l'onestà paga, ci vuole forse più anni, c'è gente che non ci vota proprio perché siamo onesti, quelli sono onesti, meglio non votare, c'è certa gente che ragiona così, ma dovunque, mica in Campania, dalla Valle d'Aosta in Sicilia, però c'è tanta gente che sta aprendo gli occhi, che ha di nuovo capito che stiamo rispettando i programmi, che noi entriamo lì dentro a fare solo una cosa, difendiamo l'interesse generale i soldi dei cittadini italiani, vi chiedo soltanto di proseguire su questa strada, perché la nostra è una rivoluzione lenta e meno isorabile, vedo bella Italia, bella faccia qui oggi, l'Italia più bella è qui, è nelle nostre piazze.